Ruzza ha partecipato anche al successo contro il Connacht, alla sua centesima presenza con il treviso un'ottima interpretazione davanti al proprio pubblico. Dopo l'amara delusione dell'ultima giornata di URC con sconfitta contro i Lions, questa volta la Benetton non si lascia sfuggire vittoria. È quello che è successo negli ottavi di finale della Challenge Chap, con una vittoria per 41-19 sul Connacht. Benetton Rugby, Bortolami, siamo andati lontano, l'approccio mentale ha fatto la differenza, abbiamo lavorato sui fianchi del Connacht e attaccato i loro punti deboli. Siamo riusciti a stancarli e ad andare lontano, e avevamo bisogno di molta fiducia nei nostri mezzi. A volte le partite non finiscono come vorrei, ma non avevo dubbi che i ragazzi si sarebbero preparati al meglio per questa partita. Dovevamo solo concentrarci su quello che avevamo davanti e che avremmo potuto vincere questa sfida. Ripeto, l'aspetto mentale ha fatto la differenza. Un pomeriggio da Leoni la Benetton batte il Connacht e va ai quarti di Challenge Chap anche Federico Ruzza ha parlato dopo il tecnico, che ha festeggiato le 100 presenze con la Benetton insieme all'ottimo successo, è una fortuna un onore poter rappresentare questa società e soprattutto gioire per questo traguardo con una vittoria davanti di un simile pubblico. Parlando degli aspetti tecnici della partita, la seconda fila ha dichiarato, non siamo stati perfetti in mischia e in fascia, ma credo che abbiamo gestito abbastanza bene le fasi statiche e i diversi momenti della partita. Siamo stati bravi a lavorare nel modo giusto per dare opportunità ai terzini.